Prima fila, Magazine. Ora ci trasferiamo ai Teatri di Vita dove c'è una nuova rassegna che si chiama Cuore di Slavia. Da un po' di tempo Teatri di Vita ci ha abituati a queste rassegne Cuore di e poi una zona geografica, un paese, per conoscere questo paese dal punto di vista culturale e teatrale. Stefano Casi, direttore artistico dei Teatri di Vita Cuore di Slavia, dove ci porti esattamente? Quest'anno non esattamente in un paese, ma in una problematicità, che sono appunto i paesi slavi dell'Europa orientale, quindi Russia, Ucraina, Bielorussia. Abbiamo pensato questo festival prima dell'invasione russa in Ucraina e poi ci siamo trovati spiazzati, ma questa cosa ci ha dato una spinta ulteriore a realizzare questo Cuore di Slavia che porta a Bologna alcuni artisti ucraini, al momento profughi, con le loro creazioni, con i loro studi rispetto in parte alla guerra, in parte all'identità ucraina, ma non solo. E poi una rassegna di cinema, in collaborazione con Alpe Adria Trieste Film Festival, quindi film dall'Ucraina, dalla Russia, dalla Bielorussia e dalla Polonia, tutti i contemporanei degli ultimi due o tre anni, che ci danno proprio il quadro del momento subito prima di quello che sta accadendo. E questo ci aiuta moltissimo a capire, al di là di quelle che possono essere tante inchieste, approfondimenti e servizi giornalistici, ci aiutano a capire attraverso proprio il cinema e comunque in generale la cultura contemporanea, che cosa sono questi paesi slavi. E poi una mostra fotografica di un collettivo di fotografi di Kiev, che fanno una mostra per la prima volta in Italia sull'adolescenza, appunto, sui adolescenti di Kiev. Sono cinque giorni che ci accompagnano dentro una problematica molto pesante, molto seria, ma con la nostra idea comunque di una leggerezza di ambiente, se non altro, che è il parco, che è una situazione in cui appunto si può vivere al di là dell'AFA che ci sta opprimendo in serate di scambio, di conoscenza, di dialogo, ma anche di relax e di fresco. Correggimi se sbaglio, in una battuta, come spesso è accaduto nella storia, gli artisti avevano colto alcuni segnali per tempo e parlando dell'invasione della Russia in Ucraina del 24 febbraio alcuni artisti avevano già lanciato l'allarme anni prima. Ti risulta questa tua osservazione? Beh, potrei dire che noi stessi a Teatri di Vita, otto anni fa, proprio all'inizio della guerra nel Donbass, abbiamo creato una rassegna, si intitolava Danze di Pace sul fronte orientale, dove appunto avevamo coinvolto coreografi dalla Russia, dall'Ucraina e dalla Bielorussia e in particolare lo spettacolo dall'Ucraina di otto anni fa andava proprio in maniera molto tagliente, lucidissima, direi quasi profetica, a raccontare quello che sta accadendo e proprio per questo noi eravamo partiti con l'idea di Cuore di Slavia dall'invito a questo coreografo a tornare, a raccontarci con uno spettacolo, con la sua presenza, con la sua testimonianza, proprio questa sua lucidità e quello che accade, perché se gli artisti lo coglievano a suo tempo, come dire, era possibile, no? Coglierlo. E lui purtroppo non potrà venire perché, come tutti gli uomini, non può uscire dall'Ucraina, ma ci ha mandato un'opera di videodanza che presenteremo in Prima Nazionale, Monochrome, che è un'opera di videodanza che lui ha creato durante questi mesi di guerra. Quindi racconta attraverso il rapporto fra il corpo e la natura, la natura ucraina che in questo momento è così martoriata, ecco, racconta davvero come un artista si relaziona con quello che sta accadendo e ci racconta appunto la sua, anche il suo prendere possesso del corpo dopo settimane che con l'inizio della guerra il corpo si era quasi atrofizzato, no? Quasi paralizzato dall'enormità di quella che è la guerra. Quasimodo diceva come potevamo noi cantare con il piede straniero sopra il cuore. Ecco, questa è un po' la domanda di fondo che ci accompagnerà per tutta Cuore di Slavia. Cuore di Slavia allora ai Teatri di Vita dal 4 luglio, grazie a Stefano Casi per essere stato con noi. Grazie a voi e vi aspetto.